Probabilmente la soluzione migliore è che i comuni si mettano d'accordo e concordino appunto la data di previsione del bilancio non entro il 31-12 ma in un momento successivo in maniera da palesare questo grandissimo problema che i nostri bilanci stanno vivendo. Sospendere l'approvazione dei bilanci di previsione come forma estrema di protesta di fronte all'escalation dei rincari e all'emergenza sociale che sta ricadendo inevitabilmente sui comuni. Questa la sintesi di quella che sembra una nuova mobilitazione dei primi cittadini della marca. Ne parlavo ieri sera con alcuni colleghi, l'obiettivo era quello di sentire anche il sindaco Conte oggi o in questi giorni e di valutare assieme proprio questa proposta perché probabilmente il segnale sarà maggiore quanti più comuni aderiranno all'iniziativa stessa. A Preganziol il caro energia si somma come per tutti al rialzo delle materie prime che si vede e si sente nei cantieri avviati. Abbiamo avuto grossissimi problemi con aumenti nei cantieri delle scuole quindi davvero ci siamo bruciati solo su quei due cantieri quasi un milione di euro. Se a ciò sommiamo le bollette davvero il salasso diventa ingentissimo. L'unico cantiere escluso in parte dal boom è fortunatamente il più atteso, quello per la rigenerazione del municipio attualmente in corso e dove i lavori non erano più rinviabili. Avevamo delle parti che ormai cadevano, letteralmente cadevano insomma su scrivanie o negli spazi esterni, pioveva dentro. Adesso piove su bilanci già esangui, da qui l'appello. Dobbiamo far sì che questa necessità sia fortemente sentita anche a livello statale perché altrimenti le nostre comunità non reggono.